Maria ejemplifica la nuova umanità Miercoles 8 di dicembre del 2021 Dal libro del Siracide In quei giorni, sorse Elia, profeta, come un fuoco. La sua parola bruciava come fiaccola Egli fece venire su di loro la carestia E con zelo li ridusse a pochi Per la parola del Signore chiuse il cielo E così fece scendere per tre volte il fuoco Come ti rendesti glorioso, Elia, con i tuoi prodigi E chi può vantarsi di esserti uguale Tu sei stato assunto in un turbine di fuoco Su un carro di cavalli di fuoco Tu sei stato designato a rimproverare i tempi futuri Per placare l'ira prima che divampi Per ricondurre il cuore del padre verso il figlio E ristabilire le tribù di Giacobbe Beati coloro che ti hanno visto E si sono addormentati nell'amore Dal Vangelo secondo Matteo Mentre scendevano dal monte i discepoli domandarono a Gesù Perché dunque gli iscrivi dicono che prima deve venire Elia Ed egli rispose Sì, verrà Elia e ristabilirà ogni cosa Ma io vi dico Elia è già venuto e non l'hanno riconosciuto Anzi, hanno fatto di lui quello che hanno voluto Così anche il figlio dell'uomo dovrà soffrire per opera loro Allora i discepoli compresero Che egli parlava loro di Giovanni il Battista L'evento di Gesù che si trassicura sul monte Si fa comprendere meglio anche la sua risurrezione Per capire il mistero della cruce È necessario sapere in anticipo Che colui che soffre e che è glorificato Non è solamente un uomo Ma è il figlio di Dio Che col suo amore fedele fino alla morte Ci ha salvati Il padre rinnova così la sua dichiarazione messianica sul figlio Già fatta sulle rive del Giordano Dopo il Battesimo Ed esorta Ascoltatelo I discepoli sono chiamati a seguire il Maestro con fiducia Con speranza Nonostante la sua morte La divinità di Gesù deve manifestarsi proprio sulla croce Proprio nel suo morire in quel modo Tanto che l'Evangelista Marco pone sulla bocca del centurione La professione di fede Davvero Questo uomo era figlio di Dio Angelus Domini E' benedetto frutto ventre di Gesù Santa Maria Mater Dei Ora pro nobis Pecatori Ora pro nobis Santa Dei Genitrix E' benedetto frutto Nostante le notti Nominum E' benedetto frutto Nominum E' benedetto Vos O Mnipote Deus Pater E' filius E' spirito Sant Amém Quando si dà di creare in Dio, in seguida si crea in qualche cosa. Gilbert Keith Chesterton